Preoccupati i sindacati per i possibili rischi di un'ulteriore privatizzazione di poste italiane, è stato indetto infatti già a partire da questo lunedì 24 ottobre lo sciopero delle prestazioni straordinarie, che terminerà il prossimo 25 di novembre. Le segreterie nazionali SLPCISL, SLCCGL, FILPCISL, COMSALCOM e UGLCOM hanno proclamato inoltre uno sciopero generale, che prevede delle manifestazioni in ogni regione d'Italia e quindi anche in Sicilia e per l'esattezza a Palermo. Sciopero programmato per la giornata del 4 novembre 2016. Serve a far comprendere al governo che noi non siamo disponibili a mettere sul mercato la totalità dell'azienda, perché a nostro avviso questo metterà in discussione la funzione sociale che da 154 anni assicura la nostra azienda e soprattutto metterà in discussione decine di migliaia di posti di lavoro e con la conseguenza assolutamente netta che sarà quella di non offrire più un servizio efficace ed efficiente, provando a buttare a mare i sacrifici di 140.000 dipendenti, i quali con il loro sacrificio hanno fatto sì che il vecchio carrozzone pubblico che produceva 4.000 miliardi di deficit all'anno oggi chiude i bilanci e quest'anno chiuderà ancora una volta il bilancio in positivo, presumiamo, con qualcosa come 1 miliardo e 200 milioni. Quindi no a una privatizzazione che dovrebbe vedere introitare da parte dello Stato qualcosa come 3 miliardi a fronte di un debito pubblico che oggi in Italia sfiora i 2.500 miliardi. È una battaglia che noi porteremo avanti fino allo streono, sperando che il governo si convinga della bondà della nostra protesta. Caltanissetta farà il suo dovere e Caltanissetta sarà rappresentata a Palermo con circa 250 persone. Giorno 4 intorno alle 9, 4 o 5 pullman e partiremo da Caltanissetta alla volta di Palermo per rappresentare civilmente e democraticamente il nostro disagio. Sperando, ribadisco, che il governo possa ascoltare le nostre voci perché credo abbiamo il diritto e anche il dovere di protestare fino alla fine.